Grazie a Jessica per averci dato la passione Risperti a Firenze, è vero Silvia? I post Esatto, fantastici Clau, Clau Eppaa Raga, noi non torniamo più a casa, proprio Certo, siamo anche vicini, bella vero? Guarda, non ci muoviamo Sto guardando le differenze Raga, noi non torniamo più a casa, abbiamo deciso che noi proprio ci diamo E siamo vicini di casa, guarda, questa casa ti va bene Noi raga, ce ne stiamo qua Cioè è una figata sorpresa Cioè praticamente abbiamo Non torniamo più a casa, vero? Non proprio ce ne stiamo qua, proprio, addio proprio Appena già Vabbè c'è Giro per Siena, fantastico Bellissimo, giro per Siena Cosa c'è come sembra centrale? Sì, la di una nave Io Dove va non importa Baila come il bravo Mi piace Cioè è meglio ancora e fa Fai una tele Fai una tele Fai un video Fai una tele Claudio 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie per la visione